Altalena di emozioni nelle gare di ritorno dei quarti di finale play-off, eccezione fatta per Cesena e Vicenza che come all'andata non si fanno male e riescono nell'impresa di non realizzare neanche un gol in due sfide. A volare in semifinale però la formazione di Mimo Toscano in virtù del miglior piazzamento in classifica. I bianconeri se la vedranno con il Lecco prima in trasferta, poi al Manuzzi. I nerazzurri fanno il colpaccio sul campo del Pordenone, subito vantaggio ospite con un'autoretta di Dubicas. Il pareggio dei ramarri arriva compinato al diciottesimo minuto. All'ottantaquattresimo però il Lecco va all'assalto della qualificazione con la retia di Cristian Bunino che porta avanti i Lombardi. La sentenza definitiva è di Ardizzone al minuto 88. Lecco avanti, a casa ci va una delle favorite, il Pordenone. A proposito di favorite, il vero flop è rappresentato dal Crotone che all'uscita contro il Foggia mette subito le cose in chiaro portandosi addirittura sul 2-0 nel primo tempo grazie a Cernigoi che realizza la mezz'ora da distanza ravvicinata e al raddoppio di Giglioti nel primo minuto di recupero. Reazione rabbiosa del Foggia nella ripresa al cinquantesimo accorcia le distanze Frigerio. In un momento di grazia il centrocampista Rossonero espulso Delrico al minuto 67, Crotone in 10. Ed è Beretta all'ottantacinquesimo a mandare in delirio i Rossoneri che eliminano i pitagorici. In simifinale trovano un super Pescara che espugna anche il campo della Virtus Emtella. Vantaggio di Cuppone al trentaseiesimo pareggia su calcio di rigore il solito Silvio Mercai al minuto 45. Nella ripresa espulso Reali per doppia munizione, padroni di casa in inferiorità numerica. Ne approfitta la squadra di Zdenek Zeman che con delle monache si porta in vantaggio e con Cuppone cala il Tris al minuto 72. A nulla serve la rete di parodi nel finale. Se ne parlerà stasera a casa playoff appuntamento alle 22.30 su Prima TV.